ciao a tutti sono marco ghezza ambassador di bim santori per l'italia oggi vi porto in scozia sull'isola di aila e parleremo di la froig la froig che in gaelico significa la bella buca sull'ampia baia quindi mi raccomando ragazzi è gaelico non è francese non chiamatemelo la froig che apre le sue i suoi battenti nel 1815 grazie ai fratelli johnson agli inizi del novecento viene rilevata dal nipote dei due fratelli ian hunter che porta al massimo fasto la distilleria negli anni 50 la distilleria passa al comando di bessie williamson che era la segretaria di ian hunter e alla sua morte decise appunto di lasciare a lei le redini della distilleria prima distilleri manager della storia di scozia oggi il distilleri manager è ian hunter da ormai 25 anni e per la prima volta nella storia di la froig un distilleri manager nato e cresciuto proprio sull'isola di aila la froig che insieme a bomor fa parte delle uniche sei distillerie rimaste in scozia ad effettuare la fase di maltaggio a pavimento quindi con il metodo tradizionale utilizziamo acqua che viene da il torrente kilbright un torrente appunto di acqua fortemente torbata di proprietà della nostra distilleria così come di proprietà della nostra distilleria è la torba che utilizziamo per affumicare per essiccare i nostri malti i malti vengono essiccati quindi con questo fumo di torba ma è un fumo freddo si chiama proprio affumicatura freddo e questo conferisce alla froig quelle note fortemente torbate nonostante ci troviamo in un range di torbatura che si aggira intorno alle 40 parti per milione un whisky che fa della sua caratteristica principale il suo cavallo di battaglia questa nota fortemente salmastra e fortemente iodata pensate che proprio a questa caratteristica durante il proibizionismo americano è stato l'unico whisky a essere esportato in america infatti quando i barili arrivavano presso le dogane americane i doganieri aprendo i barili pensavano che fosse un medicinale e questo ha reso possibile il consumo di la froiga anche durante la buia epoca del proibizionismo americano e oggi andremo a degustare tutta la gamma di la froiga presente in italia